Siparietto, cari degli spettatori, è dedicato questa sera a Noa, la cantante idrauliana conosciuta in tutto il mondo. E perché ci riferiamo a Noa? Perché Mattarella le ha conferito la commenta di commentatore della Repubblica Italiana. Perché Noa ama in una maniera veramente ingommiabile la cultura e l'arte italiana. Brevemente un profilo di Noa è nato dagli emeniti ebrei a Tel Aviv, ma è dovuto scappare subito quando è stato costituito lo Stato di Israele. E' andata in America, ma poi è tornata subito nel suo paese natale e si è sposata, felicemente ha avuto tre figli. Noa è notissima per il suo impegno civile, oltre che per il suo impegno artistico. Sul piano artistico è legatissima a Napoli e ha lavorato anche con Pino Daniele. Sul piano civile non ne parliamo. Ha avuto il premio per la pace ad Assisi. Noa è uno degli avversari più decisi di Netanyahu. Ecco, però difende il suo paese e si augura che dall'altra parte anche i palestinesi vadano incontro agli israeliani. Noa ha scritto una bellissima lettera al sole 24 ore quando ha ricevuto la commenda. E io vi leggo soltanto qualche straccia di questa lettera scritta con molta, moltissima passione. dice, tra l'altro, ecco, ti auguro, amata Italia, di restare te stessa, di non dimenticare la tua innata gentilezza e l'apertura verso gli stranieri più deboli, di aprire sempre le porte. Ti auguro, continua Noa, di saper sempre proteggere i tuoi splendidi e fragili tesori naturali e i siti storici dagli artigli dell'avidità e dell'avarizia. Che tu ti prenda cura dei tuoi poeti, musicisti, scrittori, pittori e filosofi, poiché essi sono il tuo cuore pulsante. E conclude, Italia, spesso sei portata a trascurare i tuoi doni, le tue potenzialità e la tua immensa bellezza. Fino a quando arriva uno straniero innamorato che ricorda quanto devi essere grata. Perciò, ti supplico, Italia resta gentile. Ed è veramente una lettera scritta con il cuore. Il nostro regista Francesco Lignide ha scavato nei nostri archivi e tra i vari stimoli e sollecitazioni ha trovato una interpretazione di Noa che adesso vi presentiamo e che conclude la nostra trasmissione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.